Il libro irride a Di Maio, leader dei 5 Stelle, Luigino la qualunque, fa il verso accetto la qualunque, la figura irridente inventata dal comico albanese, il capo del Movimento 5 Stelle promette soldo a tutti senza avere un euro. Allora su questa cosa e anche per darvi il senso generale di attacco frontale che il Movimento 5 Stelle in questi giorni sta vivendo, vediamoci anche questa divertente, lo facciamo anche per alleggerire il tono di questa rassegna stampa, divertente, eloquio di De Luca, del governatore della campagna, De Luca che si scaglia col suo solito accento e col suo solito stile contro il Movimento 5 Stelle e questo è anche un suggerimento a Crozza che lo irride molto spesso. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe, che quando si sono candidati con la loro faccia, non 50 anni fa, 3-4 anni fa, sono stati bucciati tutti quanti, Fico, Campania, vi ricordate, Luigino, Appomigliano, 56 voti, è di Battista, dice che se non l'ho letto su un giornale si era candidato prima a una municipalità di Roma, bocciato pure lui. Quindi questi sono tre miracolati che hanno sfruttato l'onda grillina, ma se fosse stato per loro. Allora la cosa davvero drammatica è immaginare che questi soggetti possano avere in mano l'Italia. L'Italia.